Regione e Ferro Tramviaria S.P.A. si rimpallano le responsabilità. Alle parole di qualche giorno fa, proferite dal presidente Michele Emiliano, che ha sostenuto nel corso di un incontro con le famiglie delle vittime del disastro ferroviario del 12 luglio, che Ferro Tramviaria sia responsabile di non aver dotato la linea Andrea Corato di strumentazioni di sicurezza per risparmiare poche centinaia di migliaia di euro, Ferro Tramviaria ha voluto ricordare con una nota che la Regione è proprietaria di quella linea e che spetta alla stessa Regione determinare gli interventi da operare e di predisporre la dotazione finanziaria per realizzarli. Un botta e risposta su cui probabilmente solo la Procura di Trani, che prosegue con le indagini, potrà mettere la parola fine. Restano sei, almeno ufficialmente, gli indagati della Procura tra ferrovieri e vertici di Ferro Tramviaria in un processo in cui la Regione si è costituita parte offesa in quanto proprietaria dei treni distrutti nello scontro del 12 luglio. Non è stata ancora depositata la relazione dei tecnici che hanno esaminato la linea e i rottami dei due convogli. Intanto si lavora per i risarcimento alle famiglie delle vittime. La Regione ha approvato un contributo alle famiglie per il risarcimento dei costi sopportati per il funerale. 4.000 euro a vittima, destinati anche a chi ha scelto di non partecipare ai funerali comuni tenuti nel palasporte di Andria. Diversi incontri si sono tenuti poi a Roma per stabilire i parametri attraverso cui dividere la dotazione di 10 milioni di euro disposta dal Governo. È attraverso i sindaci della città di appartenenza delle vittime che sarà elargito questo contributo. C'è infine il risarcimento dovuto da ferrotrambiaria. Il massimale previsto dalla Polizia Assicurativa è di 30 milioni di euro ed è interesse dell'azienda trovare un accordo con le famiglie delle vittime per evitare il riconoscimento di danni ulteriori.